Ciao, sono Francesco Meda. Per me il design è anche uno strumento di conoscenza, anche di aggregazione, cioè di trovarti in sintonia con tante figure diverse e poi tutti insieme permettono un risultato finale. Siamo presenti in fiera con uno stand all'interno del gruppo MDF Italia, dove abbiamo cercato proprio di fare un'installazione molto, in un certo senso, coerente con il marchio, semplice, dove dai valore proprio a questi progetti che hanno una storia, dove vengono valorizzate le finiture, i materiali, le laccature, i processi di tecnologie che ci sono dietro anche a questi prodotti. Sempre con Acerbis abbiamo cercato anche di far vedere varie estetiche, vari livelli di immagini, cioè è molto divertente vedere un marchio come può assumere vari connotati, varie estetiche, pur mantenendo sempre una sua coerenza nel DNA. Grazie a tutti!